Zittire la vostra mente La via della conoscenza Voce della quiete.vaianocchiocciola.gmail.com Attilio e Franca Una voce Proviamo a riassumere questo contenuto in cui sono presenti tre tematiche. La prima riguarda la vita vista con lo sguardo che è stato plasmato dalla disconnessione e dalla scoperta della pausa presente fra un pensiero e l'altro. È possibile scoprire la pausa solo quando si riconosce che i pensieri e le emozioni nascono e muoiono, cioè sono impermanenti e scorrono attraversando l'uomo. La loro disconnessione è determinata dalla pausa e quindi essere consapevoli della disconnessione significa riconoscere la pausa che li separa. È possibile che si mostri anche a voi una breve percezione della pausa tutte le volte che lo strumento retorico del chi guidato da un maestro che in realtà non mente si pone come un cuneo a zittire la vostra mente mettendo in crisi la stretta identificazione che avete con essa. Insieme rivisiteremo questi argomenti per farvi acquisire maggior comprensione di come si possa mostrare la vita agli occhi di chi vive consapevolmente la disconnessione che già agisce in ognuno di voi ma di cui siete inconsapevoli. La seconda tematica di cui parleremo in queste pagine è quella relativa al concetto di gratuità che si può comprendere solo quando la disconnessione si impone come forza a mandare in tilt le connessioni che costruisce la vostra mente per creare il vostro io unitario. Gratuità è la vita che si svela ed è l'incontro con la realtà dell'accadere. Da ultimo tratteremo la tematica sull'amore analizzato da un'angolatura che a voi risulterà del tutto inusuale a tratti assurda ed inaccettabile. Vi porteremo ad osservare che cosa accade quando nel quotidiano si impone l'azione in sé che svuota di significato quello che voi considerate il risultato di un'azione compiuta da voi in quanto la connettete con la situazione che si viene a creare. Il concetto di in sé è basilare nella via della conoscenza ed in queste pagine avrete modo di chiarirvelo. Vi mostreremo come l'amore sia azione ma non un'azione attribuibile a voi o ad altri con cui entrate in relazione. No! L'amore trascende voi e trascende l'altro vale a dire che non nasce da voi e nemmeno dall'altro. l'amore è costante e smentita di tutto quello che proclamate con le parole con i pensieri e con le emozioni quando progettate quando date impulso ad azioni che si collocano dentro le relazioni che considerate speciali vale a dire quelle che definite d'amore oppure altruistiche. l'amore trascende l'amore l'amore trascende l'amore trascende l'amore